Fastweb Fastweb è una grande realtà per una grande squadra, il Palermo e i suoi calciatori ad ospitare questo grande evento, la Casa del Rasoio. Fastweb è una grande realtà, ha scelto la squadra del Palermo quest'anno, come mai? Forse perché il Palermo e Fastweb corrono entrambi? Sicuramente corrono entrambi e corrono anche abbastanza bene, dato che è vero che il binomio è vincente, sia da un punto di vista calcistico che da un punto di vista commerciale. E' una bella sfida, noi su Palermo ormai siamo da un po' di tempo, quindi la gente ci apprezza, siamo felici di unire il nostro marchio con il Palermo, siamo vincenti entrambi, speriamo che questa storia continua. La famiglia Montesanto è sul territorio di Palermo da tanti anni, 40 anni, quindi voglio dire che è piacevole che una realtà così integrata sul territorio, che ha dei passati storici così importanti, poi possa sposare una tecnologia nuova come quella attuale della DSL e comunque insomma è il nuovo che avanza, sia da un lato di Fastweb se vogliamo, sia anche il Palermo che insomma rappresenta la novità nel calcio in questo momento. Fastweb, giocatori del Palermo, una grande affluenza di pubblico, ma come nasce l'idea di questo evento? L'idea di questo evento nasce dal fatto di aver effettuato diverse attivazioni durante il corso dell'anno, abbiamo raggiunto buoni livelli come punto vendita, Fastweb ci ha voluto regalare questa splendida serata. Qua mi sono ambientato benissimo, subito, ricordo molto il mio paese, perciò mi sono ambientato subito, spero qua di rimanere a lungo. Grazie per la visione!